La quarta edizione della Caccia al Tesoro Fotografica Life Memorial Fabrizio Piro, manifestazione che apre ogni anno la triade di eventi del progetto Life, dedicato interamente alla memoria del fotografo freelance prematuramente scomparso, si svolgerà quest'anno il 20 luglio. Una iniziativa che richiama ogni anno un gran numero di partecipanti, che mostrano la voglia di mettersi in gioco, ma anche di riscoprire attraverso la gara gli angoli più nascosti della città. Una delle principali peculiarità dell'evento, infatti, è quello del cambio di location, scegliendo ogni anno come campo di gara un quartiere della città diverso dall'anno precedente. Dopo il centro storico, il quartiere di San Michele e quello della Marina, quest'anno si ritorna in centro storico, però in un percorso che sarà reso noto il giorno stesso della manifestazione. L'appuntamento per le squadre partecipanti è fissato alle ore 17 del 20 luglio, presso la piazzetta Lombardo, adiacente a piazza Saverio Friscia. Scopo della gara è quello di decifrare gli indizi della pergamena assegnata ad ogni squadra e di fotografarli nel minor tempo possibile. Il regolamento completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito dell'Altra Sciacca. La caccia al tesoro fotografica Life è organizzata dal club fotografico amatoriale L'Altra Sciacca Foto, dagli amici e familiari di Fabrizio Piro e dalla community Instagram Igers Agrigento e vede il patrocinio del comune di Sciacca. Grazie a tutti.